Vzolog, sigla! Allora, io sto registrando questo video il 26 dicembre, ma voi lo state guardando il primo di gennaio, il giorno in cui è uscito il film di cui voglio parlarvi oggi, che io ho avuto il piacere di vedere già qualche mese fa durante il Lucca Comics and Games, c'era l'anteprima. Tra l'altro l'ho visto in lingua originale e lo stavo aspettando da veramente tantissimo tempo perché è un film un po' particolare. Mi riferisco ad una pelicola del 2023 per la regia di Ayao Miyazaki ed è Il ragazzo e l'airone, che è stato portato in Italia da Lucky Red e già il fatto che è scripito 1 di gennaio è sicuramente un po' un evento perché è una data storicamente riservata a film di un certo tipo, film per famiglie, film molto molto commerciali. I film dello studio Ghibli sono sicuramente commercializzabili, però non sono i classici film d'animazione occidentali che hanno come target bambini molto piccoli, sono film che possono essere guardati tranquillamente, sia dai bambini che dai ragazzi che dai adulti, però sono anche film comunque abbastanza di concetto, sono film di un certo tipo e quindi il fatto che Lucky Red abbia portato il film in Italia il primo di gennaio è già una gran cosa. Io tra l'altro lo andrò a rivedere sicuramente perché voglio rivederlo in italiano, voglio rivederlo in generale perché è un film che a me è piaciuto tantissimo, tra l'altro nel 2013 uscì si alza il vento e all'epoca si pensava, visto che l'aveva detto, che sarebbe stato il suo ultimo film di Miyazaki. Poi qualche tempo dopo dichiarò che stava lavorando a un nuovo film il ragazzo lerone ci ha messo più di otto anni per realizzarlo perché comunque la produzione è iniziata tempo dopo rispetto all'uscita di Si alza il vento, sono stati coinvolti decine di animatori, è animato alla vecchia maniera diciamo, e soprattutto in Giappone quando è uscito qualche mese fa è stato presentato senza trailer, senza marketing. Volevano dimostrare che quando si ha un certo status come lo ha lo studio Ghibli, come ce l'ha Miyazaki, la gente a vedere il film ci va lo stesso. Del resto, fino a qualche decennio fa, non è che si facesse questo gigantesco battaggio pubblicitario per ogni film che usciva. Si diceva, è uscito un nuovo film che so con Tognazzi, la gente andava a vederlo, poi sì un po' di marketing si faceva, ma di sicuro non funzionava come funziona adesso, quindi hanno avuto provare proprio qualcosa di diverso. Forse avevano presentato un teaser tipo due giorni prima dell'uscita, cioè una proprio roba blandissima, mentre invece per l'Occidente il marketing c'è stato, ovviamente perché da noi funziona in una maniera un po' diversa. Se una cosa non è praticamente pubblicizzata o si avvia una campagna pubblicitaria inconsapevole con il passaparola, quindi non da parte dell'azienda, ma con meme e quant'altro, tipo il barbenheimer, allora lì un discorso. Oppure devi fare per forza la campagna pubblicitaria classica, altrimenti la gente il film non lo va a vedere perché non sa che è uscito, molto semplicemente. Quindi io sono andato a vederlo all'anteprima, molto contento perché insomma era un film che volevo guardare, ero contentissimo di guardarlo in lingua originale, e sono rimasto veramente folgorato. Ora, io non so se sarà veramente l'ultimo film di Ayao Miyazaki, in teoria sì, però lui è imprevedibile. Certo che adesso ha un'età, quindi se ci mette 7-8 anni a fare un film, io adesso spero che viva fino ai 120 anni, per l'amor di Dio, però diciamo che tendenzialmente potrebbe essere il suo ultimo film, perché non è come Scorsese o Eastwood, che sì, fanno film alla loro età ancora, però la produzione dei loro film è decisamente più breve. Questi sono film ad animazione, Miyazaki rifiuta di usare le più moderne tecnologie, quindi ci mette tanto a fare un film con questo tipo di mentalità, per cui è assai improbabile che ne esca un altro. Magari poi sì, per il momento non sembrerebbe essere in programma un nuovo film di Miyazaki, quindi tendenzialmente io considero Il Ragazzo Nerone l'ultimo film del maestro Ayao Miyazaki. È in sé un buonissimo film, splendido, ma secondo me, se viene considerato come il suo probabile ultimo film, acquista anche di valore perché fungerebbe da testamento artistico di grande pregio, come già volendo, quando pensavamo che sarebbe stato l'ultimo, aveva assolto a questa funzione, si alza il vento, un film comunque in parte autobiografico, con il protagonista che palesemente aveva dei tratti sia somatici che nel vestiario, che erano tranquillamente assimilabili a quelli del regista, con quel cappellino da pescatore tipico, la passione per gli aerei, che erano diciamo il fulcro di quel film, per cui già all'epoca io pensai, cavolo, questo è il suo ultimo film, direi che ha chiuso la carriera in bellezza. Poi è arrivato questo, questo l'ho trovato straordinario per vari motivi, innanzitutto a me ha dato un senso di chiusura artistica, è un film che si rifà molto a quelli che sono gli stilemi tipici dei film di Miyazaki e soprattutto dello studio Ghibli, cioè il proiettarti in un mondo fantastico, popolato da creature bizzarre che sono naturalmente ispirate al folklore giapponese e asiatico in generale, un po' come La Città Incantata. Ecco, questo per me è un film che in parte si può assimilare alla Città Incantata anche se è anche più maturo rispetto a quello, perché comunque è un film in cui si parla di crescita, il protagonista, Maito, è questo ragazzino che ha dovuto subire un lutto dopo aver vissuto la seconda guerra mondiale, quindi ha visto degli iscritti errori, c'è una scena di apertura che a livello di animazioni, a livello di colori, di regia, è qualcosa di mostruoso. Veramente, ma veramente mostruoso per quanto riguarda il lato tecnico, questo è un film di fattura inarrivabile, veramente, perché comunque le animazioni sono qualcosa di inconcepibile. nel 2023 abituati all'animazione comunque in CGI, anche magari ad animazione ottima come quella di Into the Spider vs. Close the Spider che ha creato una nuova wave, per l'amor di Dio, però abituati a questo tipo di animazione che sa essere sicuramente spettacolare, spettacolare, vedere qualcosa così vecchio stile che ti ricorda la potenza, diciamo, del, chiamiamolo, analogico per modo di dire, è qualcosa che non vedi tutti i giorni, è un qualcosa che è proprio fuori epoca e io ero strabiliato e Maito deve affrontare la crescita, perché questo è un film che parla di crescita, che parla di elaborazione del lutto, ma ti presenta tutte queste cose ricordandoti anche che non è un dramma, perché la crescita è spesso associata a un trauma, in un certo senso. Se ci pensate, crescere fa parte ovviamente della vita, però è un po' traumatico passare da un lungo periodo di tempo in cui sei coccolato, non hai un pensiero al mondo, a un periodo ancora più lungo, tutto da scoprire, in cui hai responsabilità sulle spalle, ti devi confrontare con l'idea di fallimento, con tante cose sicuramente poco piacevoli. Ecco, Miyazaki con questo film ti vuole ricordare che sì, crescere può essere tra virgolette traumatico, ma è anche un'avventura, è qualcosa da cui tutti devono passare e il punto è capire come affrontarlo. Quindi Maito deve affrontare questo viaggio che rappresenta la sua crescita, da ragazzino inizia a diventare poco a poco uomo, anche se poi rimarrà un ragazzino ancora per un po' di tempo, ma è un ragazzino che è costretto ad affrontare delle cose che magari un bambino non dovrebbe affrontare, quindi deve innanzitutto elaborare il lutto che lo ha colpito e poi a questo lutto segue un cambiamento e lui deve non solo elaborare questo lutto, ma deve anche cercare di elaborare i cambiamenti che sono conseguiti a questo periodo terribile, a un padre che comunque gli vuole un gran bene, che cerca in un certo senso di farsi una vita ed è interessantissimo e centrale il rapporto tra Maito e Natsuko che è la zia, questa zia che a un certo punto diventa anche qualcosa in più, è una zia che deve diventare una figura materna, una zia che rappresenta quel cambiamento gigantesco nella sua vita e il film si ispira al romanzo di Genzaburo Yoshino o Genzaburo Yoshino non so come si pronuncia, dal titolo E voi come viverete? un romanzo degli anni 30 che è stato molto importante per la crescita di Ayao Miyazaki però non è che sia tratto da quel romanzo, il romanzo ha ispirato Ayao Miyazaki insieme a una sua esperienza di vita di quando era molto giovane e infatti a un certo punto nel film Maito trova una copia del libro però non è che il libro è ispirato a quel romanzo a livello narrativo, qualcosa c'è, però è più un'ispirazione ideologica se vogliamo ci sono delle tematiche che ci sono anche nel romanzo e quindi Maito intraprende questo viaggio in un mondo fantastico che però è diverso rispetto a quello che trovavamo nella città incantata è un mondo molto più vicino eppure lontano ma soprattutto è un mondo in grande fermento è un mondo in cui ci sono degli equilibri che si stanno spostando e lui incontrerà delle creature sicuramente molto particolari che faranno parte di questo suo viaggio che lo porterà ad acquisire delle consapevolezze sulla sua vita e su ciò che potrà fare da lì in poi e ovviamente Maito è il ragazzo del titolo e poi c'è Lairone Lairone è un personaggio che io ho trovato meraviglioso perché è che lui ha il suo valore simbolico in un certo senso è una sorta di guida in questo mondo ma è una guida particolare non è un personaggio che inizia subito come positivo non è un personaggio che aiuta immediatamente Maito però tra i due corre a un certo punto un rapporto di grande rispetto e c'è una frase che dice Lairone verso la fine del film che a me ha cavato proprio fuori le lacrime di forza perché era splendida si riassume proprio il senso stesso del film non vi dico qual è ma tanto è una frase che è stata citata in lungo e largo e che è perfetta in quel momento lì Lairone è sì la guida di Maito però non è una guida che lo imbocca non è un Virgilio se vogliamo Virgilio rassicurava Dante nella discesa dei gironi infernali poi anzi in realtà è una salita se vogliamo stare a guardare poi col purgatorio il paradiso ecco Lairone invece è costretto a fare da guida Maito Lairone è anche ingannevole eppure poco a poco rivela questa sua natura duplice animale e umana fino a diventare un personaggio importante che accompagna questa crescita di Maito in un certo senso io Lairone l'ho interpretato come quella parte di Maito che non vuole che le cose cambino ma che poco a poco si rende conto che le cose non si possono fermare cioè la ruota degli eventi a un certo punto quando è messa in moto non la puoi arrestare e quindi qui lui Maito incontrerà anche altri personaggi tra cui ad esempio Imi che è un personaggio fondamentale importantissimo che è diciamo il personaggio che rappresenta il suo rapporto con la madre per ragioni che capirete naturalmente all'interno del film quando lo guarderete e io ho trovato questo rapporto molto bello perché Imi è un personaggio tostissimo e poi Maito è accompagnato da un altro personaggio importantissimo che è diciamo corrispettivo perché non vi spiego niente ma capirete di Kiriko o Kiriko non so bene come si pronuncia nella versione italiana che salva le creature più indifese c'è questa scena splendida che io ho trovato a parte bella da vedere ma proprio poetica cioè da un punto di vista estetico il film è una delle cose più belle che si possano vedere nell'animazione mondiale cioè se devo pensare a questo ragazzo nerone io lo metto tranquillamente non solo tra uno come uno tra i film migliori dello studio Ghibli degli ultimi anni ma anche come uno dei migliori film di animazione che ho visto negli ultimi anni cioè non solo del Ghibli poi mi avete chiesto è il miglior film di Miyazaki no non lo definirei il miglior film di Miyazaki però forse è tra i migliori più che altro perché ha un grandissimo valore si vede che è un Miyazaki profondamente senile ma nel senso positivo è il termine cioè è Miyazaki ormai ottantenne anche di più che si guarda un po' allo specchio e pensa va bene ho raccontato tante cose nella mia carriera con i miei film cosa mi resta da raccontare dopo aver creato un film di formazione splendido come si alza il vento dopo averci portato con con i Ciro in un in un mondo incantato come quello della città incantata dopo averci raccontato una storia anche quella splendida a sfondo se vogliamo anche ecologico però detto così sembra sembra quasi di disminuire quello che era la principessa mononoke che non era solo quello c'era anche molto di più per l'amor di Dio una bellissima leggenda raccontata con un'estetica spaventosa insomma cosa poteva raccontare ancora dopo tutto tutto quello che ci ha raccontato cosa mancava mancava una storia di formazione che però non fosse realistica e diciamo infraintendibile come in Si alza il vento ci voleva una storia di formazione che fosse però molto metaforica lo aveva fatto anche con la città incantata però la città incantata era una storia di formazione diversa perché questa è una storia di formazione che nasce dal dolore che nasce dalla paura mentre invece in la città incantata si parlava si parlava di crescita ma la protagonista era una bambina che aveva sicuramente meno problemi rispetto ma diciamo che la città incantata era un film che ti raccontava una storia sicuramente fantasy ma molto più diciamo positiva in un certo senso non che questa non sia positiva perché ha una bella morale però parte tutto dal dolore dal lutto da una paura incredibile per il futuro e i problemi che sta affrontando Maito sono reali sono forse anche insormontabili per un bambino di quell'età troppe cose da accettare in troppo poco tempo e allora lui intraprende questo viaggio insieme tra l'altro a una delle domestiche ci sono anche questi personaggi nel mondo reale che sono già però strani da vedere queste domestiche anzianissime che si muovono come se come se fluttuassero quasi sono completamente avulse dal contesto realistico cioè tutti i personaggi che vediamo fino al momento in cui compaiono le domestiche hanno dei tratti somatici delle fattezze realistiche poi arrivano questi personaggi bizzarri che ti introducono un po' quello che sta per succedere perché da lì in poi i personaggi che si incontreranno saranno molto diversi penso ai parrocchetti alle rane insomma a tutto un parterre di personaggi incredibili fino ad arrivare a un personaggio che vi dirò meglio nella parte spoiler che è quello centrale che rappresenta il punto in cui cioè quella diciamo quella linea che una volta oltrepassata non sai di non poter più tornare indietro e io ho adorato il fatto che Maito stoicamente cerchi di trovare dentro di sé la forza per andare avanti fino a che non inizia a comprendere che cosa deve fare quali sono le cose giuste non perché lo dice la società ma giuste per lui cosa deve fare deve abbandonare l'idea di diciamo rimanere legato alla persona che ha che ha che ha perduto oppure può capire che magari può andare avanti senza dimenticare quella persona ma tornando a essere parte attiva nel mondo in cui vive questo viaggio gli ricorda quali sono le cose che davvero contano e come sempre quando il film finisce tu ti chiedi tutto quello che abbiamo visto è vero non è vero secondo me è abbastanza inequivocabile se sia vero o no però è bello che ti rimanga un po' questo questo dubbio e quindi io per quanto trovi la città incantata già un film pregno di metafore questo l'ho trovato ancora più metaforico è ancora più incisivo rispetto alla città incantata per il semplice fatto che tutto quello che vediamo risuona in una situazione profondamente realistica è una situazione che purtroppo molte persone potrebbero anche aver vissuto non magari in maniera identica però simile è una cosa spaventosamente concreta la situazione di Maito e quindi vedere Maito che da poco più che bambino cerca di diventare adulto senza rendersi conto però che non si diventa adulti da un momento all'altro infatti quando poi il film finisce non è che Maito sia diventato un adulto non è che Maito abbia smesso di diventare bambino Maito forse ha acquisito la piena consapevolezza che si deve comportarsi da adulto per quanto riguarda l'accettazione di alcune cose che gli stanno succedendo ma rimane pur sempre un bambino di 11 anni adesso non mi ricordo quanti anni ha però comunque piccolo ancora deve instradarsi verso una crescita che da un certo momento in poi gli sembrava impossibile il padre era preoccupato la zia era preoccupata poi la zia più che altro è preoccupata perché sa che a un certo punto lei per Maito inizia a rappresentare qualcosa che lui non riesce in nessun modo a processare non ce la fa a vedere la zia in quel modo per lui è inconcepibile sa di doverlo accettare e in un primo momento lo accetta ma non con la forza necessaria si chiude molto in se stesso poi questo viaggio straordinario che deve compiere lo porterà a comprendere tante cose su se stesso e sulle persone che lo circondano ed è questa secondo me la cosa più bella del film è una pellicola incredibile tra l'altro da un punto di vista anche delle musiche la prima volta quando ho visto il film e ho sentito le musiche io ero allucinato avevo i brividi già quel poco che si era sentito nel trailer mi aveva messo la pelle d'occa quando però questa colonna sonora l'ho sentita dentro al film ho pensato cazzo per me una delle più belle che ho sentito in un film dello studio Ghibli e ce ne sono di bellissime lo sapete però è perfetta perché ti dà quel senso di malinconia che ti regala il film perché il film è un generatore di emozioni tra le più disparate io ho riso ho pianto ho provato malinconia ho provato gioia è un film che parla di una persona che sta attraversando un periodo talmente complesso che lui stesso inizia a provare una gamma di emozioni vastissima e sono le stesse che poi vengono trasmesse allo spettatore e io anche solo per questo ritengo questo film importantissimo perché comunque è ancora una volta la dimostrazione che i film di animazione possono regalare delle soddisfazioni enormi è un film che sicuramente è molto lontano dal concetto di film di animazione che abbiamo qua in occidente è un film estremamente adulto poi in Giappone questa antifona l'hanno capita in Giappone lo sanno in Giappone l'animazione è una cosa serissima non è assolutamente considerata come una cosa solo per bambini anche perché è uno dei punti forti della loro cultura pop in Giappone anche persone molto grandi leggono manga che magari sono destinate a un pubblico più giovane il cinema per il film del Ghibli sono pieni di persone dell'età più più disparate per cui è proprio un altro modo di concepire l'animazione sarebbe bello se questa cosa accadesse prima o poi anche qua in Italia perché comunque sia in Italia che in generale nell'Occidente purtroppo i film d'animazione ancora sono un pochino azzoppati da una considerazione un po' mista c'è chi sa che alcuni film d'animazione possono essere apprezzati anche dagli adulti c'è chi riconsidera tutto indistitamente roba per bambini quindi se tu a 35 36 anni 40 ti guardi un film d'animazione ma perché lo stai guardando cos'hai 12 anni sempre puntualmente questa frase me la sono sentita ripetere non so quante volte per me è una cosa molto triste pensavo che fossimo arrivati al punto nel 2023 in cui magari si iniziava a capire che l'animazione innanzitutto non è un genere perché molti dicono eh ma non mi piace il genere non è un genere l'animazione è una tecnica registica è una tecnica comunicativa per fare cinema un film d'animazione può essere horror può essere romantico può essere una commedia perché non è un genere ecco quindi la colonna sonora per me è perfettamente coerente con ciò che questo film rappresenta Isaishi con questa colonna sonora ha voluto infondere quello che è il messaggio di Miyazaki cioè il fatto che bisogna sempre provare a ritrovare il bambino che c'è noi bisogna cercare di capire come le difficoltà si possono affrontare ma soprattutto ci dice che le difficoltà si possono affrontare ma le difficoltà è sempre meglio non cercare di affrontarle da soli è questo uno dei grandi messaggi del film non bisogna mai isolarsi e pensare di essere soli quando soli non si è poi purtroppo ci sono persone che magari non hanno altri che possono aiutarli ci sono quei casi però qui si esami nel caso di un ragazzino un bambino che crede di dover affrontare da solo l'enormità della situazione che è chiamata ad affrontare quando poi in realtà non è così però deve capirlo e quindi accetta riluttante l'aiuto di questo airone con cui c'è più di uno scontro anche magari da un punto di vista ideologico proprio e l'airone è senza dubbio il personaggio che ho preferito perché al di là del fatto che è realizzato da un punto di vista proprio estetico in maniera geniale per il modo in cui si trasforma si trasforma fisicamente ma anche come personaggio è un personaggio sfaccettatissimo quindi anche solo quello l'ho apprezzato e poi anche tutte le altre creature sono qualcosa di meraviglioso per cui per me è un film che vale assolutamente la pena di guardare io so che è candidato ai Golden Globe non vi so dire se lo candidano agli Oscar ma secondo me sì e vi dico la verità se penso i film che sono usciti quest'anno da rimazione se dovessero effettivamente candidare anche Miyazaki io mi auguro che non facciano cazzate e che gli diano sto cazzo di secondo Oscar perché se lo merita tanto quanto se lo meritò per la città incantata perché è un film incredibile mi auguro mi auguro che vada effettivamente bene come si merita anche al botteghino qui in Italia perché comunque nel mondo soprattutto in Giappone ha battuto record di incassi è stato un film stravisto e sono molto contento e poi qualche difetto c'era anche questo film per amore del cielo ad esempio la parte centrale in alcuni momenti rallenta molto però io non lo considero un difetto questo capisco che altri potrebbero considerarlo tale è un film che dura comunque due ore belle e piene che per un film animazione non sono poche però vi dico la verità non è uno di quei film per cui mi viene da pensare e potevano tagliarlo vi dico la verità in alcuni momenti forse è troppo criptico diventa un po' ermetico ma anche qui a me piace quindi io vi sto dicendo quelli che potrebbero essere dei difetti che secondo me però dal mio punto di vista non lo sono propriamente ma capisco che alcuni potrebbero percepirli in tal modo ci sta poi lì va anche a gusto personale io personalmente l'ho trovato veramente riuscito nel senso che ci hanno messo anni per realizzarlo però questi 7-8 anni di realizzazione hanno dato i loro frutti perché da un punto di vista dell'animazione a un punto di vista tecnico dei colori dei disegni è splendido è studio Ghibli allo stato puro e forse si va anche un po' oltre cioè è riuscito anche a ridefinire alcuni canoni estetici a cui il Ghibli ci ha abituato e questa per me è una cosa fantastica e poi è un film che ha sicuramente un valore da un punto di vista proprio del messaggio che manda dal modo in cui è scritto che è enorme artisticamente parlando questa è una pellicola di grandissimo e ad ampissimo respiro una di quelle che tra 6-7 anni chiami già capolavoro tranquillamente cioè va proprio nel novero dei film del Ghibli di cui ci si ricorderà di più proprio perché è un Miyazaki che ti fa una sorta di la città incantata con una nuova maturità ritrovata con un nuovo obiettivo che vuole raccontare agli spettatori qualcosa di diverso senza però di staccarsi troppo da quello stile che tutti amiamo cambiandolo però laddove è necessario cambiarlo quindi io l'ho preferito ad altri che magari adorati per dire io adoro il castello l'anteriore e il castello l'anteriore non mi ha mai fatto impazzire come altri del Ghibli questo mi è piaciuto di più per dirvi perché comunque l'ho visto ho pensato cavolo ha una maturità e un'asciuttezza nel raccontarti quello che vuole raccontarti che è inarrivabile davvero sono poche le persone ad oggi che potrebbero proporre un film di animazione che abbia una tale potenza per dirvi una cosa simile secondo me il ragazzo è anche più bello però una cosa simile l'ho provata con il Pinocchio di Del Toro che ti racconta una storia come quella di Pinocchio cambiandola quanto basta per farla diventare qualcosa di nuovo che ti manda dei messaggi tonanti ecco ci sono i registi che sanno farlo ma sono veramente veramente pochi a oggigiorno quindi i grandi maestri ci sono però Miyazaki forse un po' caca in testa a tutti quindi andate a vedere il ragazzo dell'Aerone mi raccomando fatevi questo regalo perché secondo il mio adesso punto di vista è davvero un film che non solo va visto ma che sicuramente vi potrà dare delle emozioni forti tanto forti quindi la scelta sta a voi però secondo me sarebbe da guardare io la butto lì quindi fatevi sempre un conto di sotto cosa ne pensate se avete visto il film se avete visto se vi è piaciuto se vi è piaciuto fatemi sapere con un commento qui sotto perché sono molto molto curioso di sapere il vostro parere quindi vi abbraccio vi ringrazio grazie se vi è piaciuto tanto va tanto bene noi ci vediamo al prossimo vlog se il film non lo avete visto se invece lo avete visto e avete saputo nel video specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 dunque iniziamo a parlare in maniera più specifica del film riferendoci un po' alla scena iniziale che è questo incendio durante la seconda guerra mondiale in cui perde la vita la madre di Maito il momento in cui il bambino scappa per la strada e arriva dove c'è l'ospedale in fiamme è una visione così tragica così spaventosa che io in quel momento ero Maito e dentro quell'edificio in fiamme c'era mia madre ero distrutto quanto lui ho percepito tutto il dolore lo stupore l'incredulità nel vedere questa visione quasi infernale e qui quando è arrivata con la scena ho pensato siamo a letteralmente un minuto e mezzo di film e io ho già i brividi quindi già iniziava bene e poi segue questo momento in cui si vede che Maito viene mandato in questa casa dove che è della famiglia della madre dove si trova la zia di Maito Natsuko che è incinta del padre il padre si sta facendo rifacendo dopo qualche anno una vita con quest'altra donna che è la sorella della moglie che per l'appunto l'è stato vicino si sono innamorati e lei è incinta quindi Maito deve affrontare un lutto che non riesce a superare deve affrontare il fatto che il padre sia sempre molto impegnato e per quanto lui sappia che gli vuole bene comunque per lui non c'è quanto avrebbe voluto e deve accettare questa zia che conosce poco come nuova madre e gli dici io sarò tua madre presto la tua matrigna che peraltro sta per partorire un fratello cioè immaginatevi i cambiamenti nella vita di questo povero bambino che è ancora troppo bambino però è abbastanza grande da poter essere considerato un ragazzo poi diciamo che pensate che eravamo negli anni comunque 40 ok già oggi in Giappone la crescita arriva molto in fretta già quando sei poco più di un ragazzino devi comportarti da uomo figuratevi come poteva essere qualche decennio fa quindi insomma Maito è in una situazione abbastanza tremenda psicologicamente parlando e arriva in questo posto immerso nel verde nella natura dove in questa casa ci sono queste domestiche anziane che sbucano da dietro gli angoli e io quando quando ho visto quella scena lì ho pensato ma che bello perché prima ancora di entrare in questo regno incantato abbiamo una sorta di anticipazione della stranezza che piano piano inizieremo a vedere lui trova poi questo libro che è annotato dalla madre probabilmente un oggetto che era destinato a lui una volta che lei avesse finito di annotare questo romanzo che diventa improvvisamente anche importante per Maito stesso perché è un lascito della madre e poi inizia a venire attratto da questa torre questa costruzione dietro casa che è stata sigillata e lui piano piano inizia a ricevere la visita di questo airone inizia ad avere queste visioni ok queste visioni con creature rettiloidi che iniziano a toccarlo perde conoscenze insomma inizia piano piano ad entrare in contatto con questo mondo in cui poi entrerà perché a un certo punto entra nella torre perché l'airone lo attira e l'airone non è qualcosa di positivo non è qualcosa di positivo inizialmente perché è stato mandato in un certo senso per confondere maito e infatti lui le fa vedere la madre e la madre c'è questa copia della madre morta che però inizia a sciogliersi e c'è questo scontro tra lui e l'airone che a un certo punto maito lancia questa freccia dove ha inserito il piumaggio dell'airone buca il suo becco e vediamo che dentro l'airone c'è questo ometto che è come se indossasse l'airone e è stranissimo io quando ho visto questa cosetta ma è meraviglioso perché comunque l'airone che inizialmente è una creatura magica poi si rivela a essere un ometto sicuramente con proprietà magiche che controvoglia quasi inizia ad aiutare maito in questo viaggio perché poi lui deve deve salvare nazuko e viene aiutato da imi che è questa donna che palesemente si capisce fin da subito però ovviamente maito non riesce a comprenderlo è la madre da giovane perché questo è un luogo dove le diciamo le versioni passate delle di alcune persone vivo che sono legate alla famiglia di maito da parte di madre vivono cercando di preservare l'equilibrio di questo mondo che a un certo punto viene invaso da questi parrocchetti che hanno ricevuto asilo e che sono però dei parrocchetti umanoidi cioè i parrocchetti sono questi uccellini che sono molto presenti nel luogo dove si trova la casa di famiglia della madre di maito però in questo mondo che è una sorta di mondo che attinge dal passato come se tutto si generasse da lì si trasformano ovviamente le cose quindi i parrocchetti a un certo punto cioè ci sono le varie porte dove si può uscire i parrocchetti escono dalla dalla porta e nel momento in cui escono dalla torre sono parrocchetti del nostro mondo cioè anche quelle che vanno addosso al padre ecco questa cosa l'ho trovata molto carina anche perché a un certo punto c'è questo momento in cui ci sono queste anime che sono le anime che poi diventeranno persone nel mondo reale che vengono uccise distrutte da queste creature ecco c'è anche questo momento del viaggio in nave che è proprio il simbolo massimo dell'avventura e quindi io sono rimasto veramente veramente strabiliato da queste immagini splendide questo modo di raccontarti questo mondo che come vi ho detto è diverso rispetto a quello della città incantata perché questo è un mondo che trova delle corrispondenze con il nostro cioè le stesse cose che ci sono in questo mondo ci sono anche da noi ma hanno un un aspetto diverso perché questa è la realtà e qui è come se fosse una sorta di iperuranio se vogliamo dove le cose che esistono da noi sono sempre esistite e aspettano solo il momento di uscire e diventare ciò che noi conosciamo volendo si può interpretare anche così io l'ho interpretato così però in realtà non è l'unica interpretazione che si può dare a questo mondo che è controllato dal prozio capostipite della famiglia della madre il quale a un certo punto scomparve ed è lì che come una sorta di divinità decide le sorti di questo mondo interno a questa torre che ogni tanto ci ricorda di essere un mondo chiuso ogni tanto vediamo le pareti della torre ci sono le porte il mondo è vastissima ma è sempre dentro lì e a un certo punto questo mondo sta per crollare perché la struttura che il prozio ha creato per questo mondo è destinata a crollare perché lui deve cedere il passo ad un erede e questo erede deciderà una nuova struttura intrinseca che per molti decenni sarà quella su cui poggerà quel mondo qui io non lo so se è fatto apposta ma ci ho visto una roba alla Lost incredibile chi ha visto il finale Lost sa che questa è una cosa ovviamente non è uno spoiler perché tanto è talmente un qualcosa di difficile da spiegare che se anche se anche vi dico una cosa simile c'è il Lost comunque non capireste quindi però chi ha visto Lost sa a un certo punto il prozio designa Maito come il suo erede è colui che dovrà mantenere questo mondo vivo ma lui rifiuta perché perché a quel punto il ragazzino ha capito quello che deve fare tutto quello che fa lo fa per salvare Natsuko e quindi accetta Natsuko come nuova figura materna anche per il fatto che sta per avere un fratellino questo fratellino è una nuova vita questa nuova vita in un certo senso non è che compensi la vita spezzata della madre ma è un simbolo chiarissimo del fatto che una vita si spegne una nuova vita viene al mondo e quindi Maito può riversare il suo amore su Natsuko e sul fratellino in arrivo capisce perfettamente che il padre gli vuole bene quindi lui decide di andarsene dice no io non voglio fare come te hai rinunciato a tutto quello che avevi per l'ossessione di questa torre magica e diventarne il signore io non ho bisogno di questo io ho capito che il mio posto ora è nel mondo là fuori perché devo andare avanti cioè non è che dice proprio così ma il senso è quello e alla fine lui vorrebbe portare Imi con sé ma Imi gli dice lo sai che non posso perché è sua madre quindi in questo modo lui cosa fa salva in un certo senso la madre la giovane madre accetta il fatto che nel suo mondo la madre sia morta ma chiude il cerchio cioè lui doveva in tutti i modi accettare quella situazione e ovviamente questo viaggio è molto metaforico è il modo in cui Maito accetta questa nuova condizione di vita che però non è necessariamente qualcosa di negativo anzi c'è un fratellino in arrivo un padre che comunque ha mostrato di essere molto preoccupato quando è scomparso il padre impazzisce a momenti quando scopre che la futura madre di suo figlio la sua nuova moglie e il figlio sono scomparsi per lui è inconcepibile vivere senza di loro e allora poco a poco Maito inizia ad apprezzare tutto quello che aveva capisce che certe cose non si possono cambiare che si può andare avanti e poi quel mondo per fortuna si salva senza che Maito debba rimanere lì è una cosa molto bella il fatto che alla fine i due mondi sono in perfetto equilibrio e Maito sa perfettamente cosa deve fare di lì in poi ci saranno degli ostacoli ma adesso ha tutti gli strumenti per poter superare questi ostacoli per poter andare avanti e per me è un messaggio importantissimo perché comunque purtroppo anche da giovanissimi ci possono essere situazioni che ci si parlano davanti e che ovviamente quando sei un bambino come fai a sapere come affrontare il tutto e c'è quella frase dell'airone che gli dice sayonara tomodachi che penso che in italiano tradurranno come addio amico mio però quel sayonara tomodachi è una chiusura capito questo airone inizialmente nemico poi divenuto grande amico di maito che lo ha aiutato a compiere il suo destino io l'ho interpretato come quella parte di maito che aveva bisogno in un certo senso di essere riagganciato a maito stesso era quella parte irrazionale che non voleva accettare quello che stava succedendo e alla fine le due parti quella razionale e quella razionale cooperano raggiungendo quella consapevolezza quando maito ormai è pronto per tornare nel suo mondo l'airone gli dice sayonara tomodachi addio amico è bellissimo cioè io l'ho trovata di una bellezza di una delicatezza perché poi è un film che è molto concreto cioè non te le manda a dire le cose sono quello che sono Natsu con un certo punto all'inizio va da maito e dice sai maito io sono la tua nuova mamma io ho un fratellino nel mio grembo è così brutale capito però parla a maito come se fosse un uomo fatto ma maito non è un uomo fatto quindi è un film in cui c'è tanta crudezza perché la vita può essere crudele ma la vita non è solo crudeltà la vita può essere tanto altro è amore è amicizia nella vita ci sono cose belle cose brutte tutto sta in come si affrontano quelle brutte e in come si riescono ad apprezzare quelle più belle fa tutto parte di un ciclo di vita che è molto complesso soprattutto per un bambino da affrontare ma maito piano piano riesce a comprendere qual è il suo modo di affrontare tutto questo perché non è che ti dice il film che le cose si affrontano in quel modo questo è il modo del protagonista di affrontare il tutto con una grande avventura formativa metaforica poi si può pensare volendo che quello che si è visto non sia vero io credo che sia vero per me è inequivocabile che sia vero però ti lasciano un pochino nell'aria l'idea che forse è tutta non si sa in realtà secondo me si capisce abbastanza che è vero però rimane sempre un po' nel limbo e io ho apprezzato molto questa cosa per cui sono rimasto veramente contento poi tutta la cosa dei parrocchetti è qualcosa di straordinario le guardie il re dei parrocchetti io ho trovato tutto quello che ci hanno detto veramente bellissimo anche perché poi i parrocchetti sono creature che proliferano tantissimo è molto simbolico i parrocchetti possono anche rappresentare volendo i dubbi che ha Maito questi dubbi che si moltiplicano pian piano che diventano che da piccoli pensieri diventano delle bestie feroci per poi tornare a essere quello che sono pensieri problemi forse ingigantiti dalla giovane età del protagonista quindi a me è piaciuto molto fatemi sapere voi però in un commento qui sotto cosa ne pensate vi è piaciuto questo film non vi è piaciuto insomma ditemi la vostra io vi abbraccio vi ringrazio grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo WeVlog ciao a tutti